Buongiorno a tutti, con questo video tutorial facciamo vedere una simulazione di come richiedere il bonus natale di 100 euro per i dipendenti pubblici che sono monoreddito, dunque hanno il coniuge a carico e contemporaneamente hanno anche un figlio a carico e hanno un reddito inferiore ai 28.000 euro. Entriamo su NoiPa con lo SPID, una volta che ci siamo autenticati con lo SPID scendiamo dall'area personale fino al consulto degli stipendi, consulti stipendiali. Tra le varie voci, oltre alla consultazione dei pagamenti, è inserita la novità della richiesta di indennità 100 euro del decreto legge 113.24, il così chiamato bonus natale. Cliccando su questo bonus natale si entrerà nella pagina per la richiesta dell'indennità, che viene ricordato l'aspetto normativo che ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto legge numero 113.24 come vedete in sovraimpressione. In presenza delle condizioni contemplate dal citato dettato normativo, chi ha un reddito non superiore a 28.000 euro per l'anno 2024 e ha il coniuge o almeno coniuge e almeno un figlio a carico, oppure soltanto un figlio a carico in assenza dell'altro genitore, potrà richiedere entro le ore 12 di venerdì 22 novembre 2024, attraverso questa pagina che avete visto come entrare, potrà richiedere il bonus natale di 100 euro che così gli verrà corrisposto a dicembre. Scendendo nella richiesta, nella domanda, troverete delle richieste a cui rispondere. Per esempio, se la famiglia è monogenitoriale, dunque non si ha coniuge, ma dunque si ha solo il figlio a carico, si deve indicare questa situazione e quindi poi ci sono i dati del figlio da indicare, nella fattispecie io posso indicare per il codice fiscale del figlio e verificare la presenza del figlio, ma se li ho già caricati caricherò il figlio di cui è a carico e poi sotto una dichiarazione di responsabilità potrò confermare e salvare la domanda, che immediatamente verrà poi inoltrata. È del tutto evidente che questa è se la famiglia è monogenitoriale, altrimenti se non è monogenitoriale si deve indicare il coniuge a carico dunque che sarà dato da questi dati e compilato nella fattispecie. Io non ho un coniuge a carico e per cui non ho la possibilità di indicarlo, ma chi ha il codice a carico comparirà il codice a carico e slasherà su questo elemento più un figlio a carico e dunque deve poi fare attenzione di dichiarare il vero, altrimenti poi ci saranno situazioni di carattere legale perché ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445-2000 le dichiarazioni di falsità sono punite dal codice penale, per cui i 28 mila Euro rientrano in questa condizione. Speriamo che questo video tutorial sia stato utile ai nostri telespettatori. Alla prossima, arrivederci.